benvenuti in una puntata in questa serie sul foot di fifa viva la fifa foot e disperazione ora io quello che vorrei fare adesso pacchetti oro c'ho solo questo premio non posso acquistare altri direi che questi qua me li conservo questi me li conservo io mi giocherei mi prenderei semplicemente un pacchetto oro premium questo qua 7500 con i crediti e poi toh mi apro questo giocatore oro premium vediamo un po facciamo questi due sbustamenti così di base vediamo cosa viene fuori iniziamo questo pacchetto oro premium direttamente preso con i crediti vediamo cosa ne viene fuori ok e vabbè fer fer possiamo dire che non è andata benissimo ecco questa busta non è andata benissimo possiamo dirlo sì possiamo abbastanza dirlo al massimo posso vedere se se posso avere perché poi tra l'altro dovrò fare una cosa altra vabbè comunque questi si conservano e poi apriamo come dicevo la busta questo giocatore oro premium vediamo un po che ne viene fuori vediamo un po cosa ne viene fuori nulla di buono io credo ho visto la nostra tavica fortuna però ho attenzione workout spagna quartista marchese united ehi ehi e la questa mi piace guan mata signori guan mata e mi piace tantissimo questo poi c'è questo aiu no è che no per le riserve sai che forse sì però velocità 75 questo è tipo piantato a te vabbè no al posto di carriio o potrebbe essere potrebbe avere un senso messo messo al posto di che di carriio comunque andiamo un po' retto della squadra casacca sri o merdan ut sole centrale questo qua no 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 non va bene qua è così guarda turca si torna a droppare turchi questo proto bella faccia tra l'altro mariano complimenti al al barbiere abbiamo sto missiroli missi c'entra una pitta per il campionato italiano però è bassino romero attaccante almeno è veloce perché se vabbè potremmo ah tante cose interessanti che ora metteremo a punto eh eh invia tutti gli oggetti messi al club si inviali tutti al club perché la rosa quella giusta adesso la devo mettere adesso sei sicuro no non fatti non voglio allora le mie rose scusate che ho messo quella italiana per motivazioni mie diciamo ora direi che possiamo fare una sostituzione e la sostituzione io la farei a centro campo eh a fellai posso sì a fellai ne verei io le verei a fellai non tanto bianco ma per per motivi di per per motivi di intesa ma a fellai e a fellai appena arrivato appena arrivato appena arrivato centrocampista ho sbagliato porca mire però dovrebbe spuntarmi oh eccolo qua one mata e one mata l'orecchio lo metterò qua e poi finisce qui che mi aumenta intesa un po' da un po' da tutte le parti ottimo di intesa direi bene 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 e qua sono ottime cose sono direi ottime cose anche perché consente di mettere due giocatori dello stesso club diciamo fra le riserve non è male ok direi che la squadra è pronta possiamo andare a affrontare la partita online ricordiamo la situazione mia ovviamente dell'online ovvero tre partite a disposizione a contatti infortunati hanno esaurito la fregna della carroll carroll infortuna al ginocchio due fuori due partite e applichiamo consumabile senti e applichiamo questo e tanti saluti ok così puoi giocare poi posso non ho se determinati problemi perfetto one mata è con noi one mata è con noi perfetto possiamo iniziare centro capo tutto sommato non si fa niente male adesso eh con one mata mesa e casorla tutto sommato non si fa cattiva eh non si fa affatto cattiva la cosa vediamo un po' contro cero fc ok io direi ecco va giusto va bene direi giocare vediamo un po' la sua squadra vediamo un po' la sua squadra allora sembrerebbe essere messa mediamente leggermente peggio dal mia ma dei giocatori che per la tipologia che sono risultano essere più pericolosi dei miei ci siamo vediamo un po' possiamo cominciare cosa riesce a fare io ci mettiamo io che sto pure scarso eh lui fa girare la palla abbastanza velocemente ok mi sembra che le cui caratteristiche vai Kiko vai ora è bella python ahhh peccato vabbè vabbè io devo devo immaginarmelo a certi livelli che sarebbero arrivano delle uscite un certo tipo devo immaginarlo anche perchè lui gioca molto con la divietà alta quindi per compensare questo penso sia ovvio che devo ciò nata uuuu attenzione guammata attenzione guammata attenzione guammata attenzione guammata lui comunque è uno abbastanza braaaavo e dai però femenia Kiko poi tra l'altro la mia tra l'altro la mia sfortuna che Draxler cioè quello pericolosissimo dei suoi c'è lo giusto giusto sul mio lato debole dove c'è Kiko femenia e e purtroppo l'effetto sei visto e e femenia se ne è andato un po' a spasso a spasso Kiko femenia è andato un po' a spasso eeeh vabbè va bene comunque dai proviamo a giocarcela casolla blind mata dai bravissimo niente niente i postaggi oggi non mi stanno riuscendo oh bravo Kail ok e dai minchia ma posso sbagliare così si porca miseria bison bison amma che dov'è vabbè perchè son cade cade da solo nooo e dai dai violente e chi te l'ha detto di farla questa era ovvio che non la prendevi vabbè dai palla girata sulla corsia bravo qua va meglio vai son ah peccato va bene dai va bene dai ci proviamo ok io direi così nooo ci sono vetri a disposizione Kail iorente niente e si difende bene lui e perchè iorente perchè così ce l'avevi la vicino perchè così perchè ce l'avevi la dove c'è sta cosa boh No Bravo Dai che pure la sfiga Bravo Kail Kiko Vabbè niente Dormono Sì vabbè Eh vabbè qua Ciao Dai che tua Williams Benissimo Passala Passala Io premo X Passala porca miseria Ah Llorente Passione Arbitro che concede il contatto Scelta giusta Vai Bravo Williams Ok Mata Occhio alla ripartezza Passala Ignorente Porca miseria Paracarro Maledetto Paracarro Oh calma Calma Marissimo Mesa Bravo Son Però prendila Oh Buona idea Per Mata Sì vabbè Ottima la lettura Del difensore Che ha capito tutto Arbitro che ha segno Ma dove Cosa succede Eh Beh Ma vabbè Eh ok Vabbè Eh Non Vabbè Ok Si chiude il primo tempo Spadre che torna Boh Proviamo a giocarsi Più o meno alla pari Lui è bravo a far girare la palla Però C'è anche sfortuna C'è anche un bel po' di sfortuna Da parte mia L'arbitro dà il via Occhio cerca l'area di rigore Vai Occhio al cross Ma non a lui Si vabbè Perché Cosa Ma che cosa Vabbè Vabbè Io non Sono Ci sono cose Che non capisco Ah Bravo blind Bravo blind Oh Me lo dai uno buono Oh Ok Vai Vai che boss Vabbè Non Vabbè Io non Non Certe cose Non me le spiego Niente Ci sono cose Che non mi spiego Vabbè Vorm Ma mi spieghi Questa cosa Vorm Me la spieghi Per favore Vabbè Niente Va tutto male Purtroppo Anzi Quando deve andare Tutto male Va tutto male C'è poco da fare Questo fallo Potresti anche Fischiarmelo Comunque Pairo Che mesa Bravo Son Vai Son Fallo Fa la palla Non l'ha presa Proprio mai Nella vita Neanche per sbaglio Ok Mata bene Dai Prima Prima Perché Fa reazione A due All'ora Ogni volta Vai Llorenti E beh Crossa Llorente Si ricomincia Ma come Rimessa dal fondo Vabbè Io No Io sono Sempre più Stranizzato E allibito Vai che no Vai che è tua Ma era tua Vabbè Vai Ma no Son Cosa Perché ha tirato così Vabbè Io Diolfon C'è Vai Mata Vai Mata Pallo E Dai E dai Almeno me lo fischiano Ok Ora Madonna mia Mata 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 Vabbè Giallo Vabbè Ok Ok Che volete Vi dica Vai Banda via Signorenti In difesa Certo No Io Vedo cose Che non hanno Assolutamente Senso C'è Proprio Nessunissimo Senso Vai Blind 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 La palla Ce l'hai lì davanti L'ha bollata Lui Eh vabbè Vai Vabbè Vorm Sembra che lo Sembra che i miei giocatori Lo facciano apposta Vabbè Vai Vabbè Bravissimo Mata Vai Vai Mata Vai Vai Pedro Ma dai Non puoi tirare così piano Pedro Vai Pedro Vai Cross Sì Vabbè No No Credo sia Incredibile Tutto Ciò Vabbè Eh Ma che cosa Vai Blind Blind Perché Perché Blind Vai Pedro Passala Passa E premo x Passi La passi In un gioco normale E quello giustamente sta facendo menina Sono aiuti i minuti Ha Ha rischiato In maniera Sono aiuti i minuti Ha rischiato in maniera Pazzesca Lui giustamente No 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 Dai che tu Dai Ok Lungo Proviamo Ringhiamo lungo Llorente Sei un Sei un Altro un metro È un È un sacco È tantissimo Passa Passala Passala Eh vabbè Ciao È andata Niente Ecco Il triplice Fischio Dell'acqua E vabbè Oh Eeeh Quando va tutto male Va tutto male Abbiamo altre due partite Per trovare il suo punto Questo famigerato punto Che ci servirebbe Per la salvezza Purtroppo Così è Pazienza Capita E allora Andiamo Andiamo con le riserve Sullo squad battles Direi Direi qua di Gabagoulis 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 Vabbè Comunque Partita che dovrebbe essere Non si spera Un po' più tranquilla Signori Ora preparo la squadra E ci vedremo Ci vedremo dopo Insomma A formazione pronta Ok ci siamo Allora Abbiamo fatto Costituzione Dicevo Aiu A posto di Carrillo Anche se Aiu Onestamente Più lento Però vabbè Però Come overall Eeeh Maggiore Proviamolo Insomma Dotare che Praticamente Ho mezza squadra Del West Ham Beh Ecco E la riserve Le squadre riserve Sono così Eeeh Ho mezza squadra Del West Ham Vediamo come va Eeeh Direi Che Potrei iniziare Perché si La squadra infatti E' pronta E allora Iniziamo Con questa squadra Battles La sua scelta Ehm Praticamente Un po' più leggera Diciamo Ad affrontare Dovrebbe essere Fattibile Abbordabile Ecco Vediamo un po' Se lo sarà Davvero Ehm Non è che E' proprio Scarsa E Non è Scarsa Non Non c'ha Assolutamente Nulla Tipo di 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 Intesa Ma come Ma presa Dei giocatori Singoli Non è Molto scarsa E Quindi c'è Da fare Molta Attenzione Vai Io Eh vabbè Prima palla Toccata Prima Vaccata Io Perfetto Obiang Vai Meccarti Bravo Obiang Ok Io Per Carroll Paracarroll Non si Smentisce Paracarroll Non si Smentisce Solito Palo Della Luce Ogbonna In qualche Maniera Aiuto Poi Mer Obiang Cross Vabbè Vabbè Eh vabbè Sa che il rischio Il rischio di perlomeno rifaticare parecchio Anche 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 la Spall Battle Se poi anche l'arbitro Si mette di mezzo C'è Meravigliosa sta cosa Victor Niente Niente Vitto Nina Appo Fagno Non ti preoccupare Appos Non ti preoccupare Orca miseria Niente Bravo Lovren Ok Aiù Arnautovic Macchi Vai Per Paracarroll Ottimo Però Passaggio per Aiù Obiang Eh dai 1-0 Obiang Obiang 1-0 Che bello Gol 1-0 Bene così Oh La 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 Io Bravo Niom Vai via Viaggia 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 Niom Viaggia Niom Bella servita Vai Paracarroll Oh E segna pure Paracarroll Segna pure Paracarroll 2-0 2-0 Benissimo Benissimo così Benissimo così direi Benissimo così Paracarroll Dà soddisfazioni Però Non dobbiamo fare Cavolate Foster Bravo Ti alzi Ok Fickson Obiang 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 Che mi fai i passaggi Io gli indico una direzione E la passa in un'altra Perché Per quale motivo Vai Vai Fogbon Meccarti Figurson Bene Ma Vai Bella Bella You Bene 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 Io Direi che Direi che da quella fascia Sarà difficile Che arrivino gol Ma vabbè Bene Mi ricorda Mi ricorda Tamedov Che Si inseriva bene Ma Ma a segnarla Manco Sbaglio Già Mi Ah vai Niom Cross Paracarroll Non ce la fa Niente Niente da fare Paracarroll Niente Niente da fare Paracarroll Non riesce Essere Efficace Decente Arnautovic Attenzione Guadagnano La dimessa Vai Vai Vittor Bello Su cross Attenzione A Carroll Attenzione A Carroll Ma Guarda Ma Guarda Elevazione Potenza Precisione Inche Che Che Detto E che E che Cross E Paracarroll Fa doppietta Paracarroll Fa doppietta Attenzione Oh Alla Saponara Saponara Giustamente Dopo Giustamente Dopo 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 Il Kagawa Serve la Saponara Dopo Kagawa Serve Saponara Giustamente È Battuta Un po' Così Ma Fa niente Certo Quelle battute Simpatiche Da Youtuber No Comunque Madonna Paracarroll Ho provato a girarmi Mezza volta Meno male Sto vincendo 3 a 0 La vittoria Non dovrebbe essere In dubbio Però Questa È una Di quelle partite Che più ti segna Magari Meglio è Certo Arnautovic Dicevo Arnautovic Comunque C'ha pure Grandissimo Controllo Devo dire Paracarroll Poi mi piace L'intelligenza Artificiale Di FIFA Mi piace Gli altri Belle Statuine Stanno lì Movimento Senza palla Manco per sbaglio Tutto facile Tutto facile qui Per il portiere Ah vai Bella Eh ciao Aiu Obiang Aiu 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 Siamo I piedi sopraffini Quando si dice Piedi sopraffini Ah Ecco Carroll Ecco Carroll Por Mamma mia Vai Niente da fare Finisce 3-0 Si stanno vedendo I limiti Di Arnautovic Diciamo Mamma mia Vai Nihom Nihom Bravo Nihom Certo Se poi evitassi Di fare Cose Che non Ti ha chiesto Nessuno Magari Magari Bravissimo Vai Carroll Bella Aiu Dai Ritagliela Aiu Aiu Era fuori gioco Aiu Patagoro Team Fuori gioco Patagoro Ali Pecore Carroll Aiu 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 Quando cross Aiu 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 Quando crossi Quando crossi Quando Endicato Tiro Tanto Boato Non si è capito Perché Comunque Primo palo Io direi Così Cross Carroll Niente Sportiello Diventa Lovoragno Sportiello Diventa Yashin Quindi Para tutto Praticamente Cosa Vai Victor San Bravi Poi Ok Obiang Carlo Che ci fai Sulla faccia Carroll Cazzo Ci fai Sulla faccia Obiang Oh Bella Li Obiang Bella Li Bella Li Passaggio Obiang Così E così Out And Out And Un Obiang All'incrocio Da fuori Area Va Bene Pedro Obiang Doppietta Tra l'altro Voglio far Notare Obiang Doppietta Cioè Kagawa Deve Segnare Deve Sono talmente Messo Talmente Messo male In attacco Che deve Segnarmi Obiang Deve farmi Doppietta Obiang Per avere La 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 Garanzia di Vincere Per avere La Partita Il Sicuro Deve Farmi La Doppietta Obiang Poi Succede Questo Poi Succede Questo Si Gnome Sta zitto Gnome Sta zitto Sta zitto Sta zitto Ma Meno male Sto vantaggio Che quattro gol Comunque L'avevo Già fatti Meno male Vai Aio Giorgino Ha capito Ha segnato Giorgino Aio Patagoro Aio Aio Ma Io Carol Continuo A chiederti Che ci fai Sulla fascia Carol Cosa Caspita Ci fai Sulla Faccia Perché Sto vedendo Robe Che non Hanno Senso Perché Se non Mi Segno Obiang Non Segna Nessuno Cag Baso Obiang Nel corso Dai Beh Beh Vabbè Gnome Gnome Deciditi O ti inserisci O stai fermo lì Non puoi fare due passi E poi torni indietro Deciditi Giorgino Giorgino Porca miseria Io Oggi Veramente Le Inerbi Dai Gnome Fai qualcosa Di utile Nella tua vita Ti sei preso un fallo Bene Bene Scusa Scusa eh Io tanto ho capito Che qua Ok Direi così Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ma perché Ma porca Io Io non lo so Io Non me lo so Spiegare Eh Pure Carrol Ma si Ma provo Che manica di scarpari Che c'ho io Come squadra di servo Vai Niente Ma Vabbè Quello Solo Cosa ha calciato Lo sa lui Vabbè Mamma mia Mamma mia Ogbonna Intervento Preciso Di testa Di Ogbonna Devo dire Bello Vai Ok Cioè Mi deve fare Carrol La tripletta Paracarrol Fa tripletta Attenzione Paracarrol Fa tripletta Esulta Esulta Con la propria curva Ed è 5-1 Senso unico Questa ormai Eh Meno male Senso unico Vai Massi Bravissimo Portati Una caviglia Eh Dai Ogbonna Dai Obbiang Obbiang Vabbè Obbiang Non ti lascia a pe Non ti occupare Fa niente Tranquil Dormi 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 caro Dormi Dormite ancora Tanto 5-1 Anche se adesso Subiremo il secondo Gol loro Siamo ancora in vantaggio Di qua Di tre Dai Ecco Guarda Ho un portiere Che bello Non lo sospettavo Ai Arnautovic Ai Arnautovic E quando mai Arnautovic Quando mai Eh Benedetto Ci avete sentito Dall'altoparlante L'uomo della partita Andy Carroll Andy Para Carroll E' uomo della partita Mi rendete conto Passala 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 Porca mia Passala Chi è che sei infortunato Chi è Che para Carroll Sei infortunato Oh Ti sei appena ripreso Da un infortunio E te ne sei fatta un altro Mamma mia C'hai muscoli Un po' fragili Io te lo vorrei Non te lo vorrei dire Che Ah io Quello Non segna Neanche se Gli la tiri addosso Guardi Hai proprio Niente Dente Ah io Ah io Proprio niente Cross Ah io ancora Sì Di tacco Vabbè Ogbon di tacco Ci ha provato Che roba E' partita E' partissimo livello E' partissimo livello E' di che C'è Paracarrol Paracarrol Uomo partita E' che dire Quanto abbiamo fatto Quanto abbiamo fatto di punteggio 1100 Eh Fra Fra Va bene Dai Ma quasi quasi va bene Dai Poi E direi Possiamo salutarci qua Su questa partita Come al solito Sconfitta Online Vittoria Squad Battles E Siamo avanti La cosa positiva Che ci abbiamo guadagnato Un warmata Che è stato l'unico positivo In quella Sciacurata Partita online E' questo Tutto qua Detto questo Credo che possiamo Salutarci qui Un saluto a tutti quanti voi E alla prossima Grazie